A raccontare dei compagni di viaggio dispersi sono state le 93 persone che la guardia costiera è riuscita a salvare. La nave Fiorillo le ha raggiunte quando il loro gommone era ormai naufragato. Una volta a bordo hanno raccontato di essere partiti in 113 e così le ricerche dei venti dispersi sono andate avanti sin dalla notte scorsa. Oggi un'altra nave della guardia costiera è intanto salvato nel canale di Sicilia altri 78 migranti, mentre in 228 sono arrivati a Messina dopo essere stati soccorsi a 40 chilometri da Malta. A segnalare il barcone naufragato con i dispersi era stato un elicottero della nave San Giorgio della Marina Militare impegnata nell'operazione Mare Nostrum. Segnalazioni come queste a partire dalle prossime settimane potrebbero non esserci più o comunque essere sempre meno, non solo perché la contestata è costosa operazione Mare Nostrum ormai alla fine, ma anche perché il pattugliamento europeo dell'operazione Triton, previsto dal primo novembre, si limiterà alle 30 miglia dal litorale italiano. Certo in caso di soccorso i mezzi potranno spingersi oltre, ma sicuramente sarà raro avere delle segnalazioni a ridosso delle coste della Libia da dove i barconi partono. L'operazione prevede di impiegare due navi d'altura, due navi di pattuglia costiera, due motovedette, due aerei e un elicottero. Differenti anche i costi rispetto a Mare Nostrum. Se l'operazione italiana costa attualmente 9 milioni e mezzo di euro al mese, Triton ne costerà quasi tre divisi tra i paesi che vi partecipano. La missione è stata avviata dopo le pressioni sulle istituzioni europee del governo italiano e del ministro dell'interno Angelino Alfano, che rispondendo durante il question time alla Camera di oggi è tornato sull'argomento immigrazione, ricordando uno dei periodi più critici sul fronte del fenomeno, ovvero il 2011, con l'allora governo Berlusconi, del quale lo stesso Alfano faceva parte. Il governo scelse di trasformare Lampedusa in un disastro colossale, ha detto il ministro dell'interno, con un danno d'immagine forse non più rimediabile.